Partiamo subito con le cose di oggi Allora, ho guardato un settaggio lì su quella app che vi avevo detto, Life360 Addirittura c'è l'opzione di avvertire l'amico quando esci in un determinato indirizzo Ma ti dà anche il raggio, se esci entro 500 piedi, che sono tipo 150 metri Se esci dopo 1000, 2 km, insomma proprio, arresti domiciliari quasi E la polizia sicuramente avrà un sistema similare quando usa i braccialetti elettronici in America In Italia le braccialetti elettroniche secondo me non c'è, no? Comunque questo è quanto, molto bello No, perché per Ciuschi ho messo il raggio d'azione lì, qua, più o meno qua Così quando arrivo qui manda il messaggio e lei, Ciuschi, esce da scuola e si trova già nel parcheggio Perché altrimenti tutte le volte quando arrivo lì devo mandare il messaggio, no? Ed è scomodo mandare il messaggio quando si guida Se lo sappiamo che potremmo farlo tramite Siri Però mentre guidi si sente male Non capisce, insomma Bisognerebbe avere il microfonino che ce l'ho a casa dello stesso Comunque questo è molto più comodo L'unico problema è il 360 che è un po' più lento Non so se è lento a mandare i messaggi Perché devi capire dove sei e mandare Il server è un po' lento Oppure perché c'era quel raggio d'azione che non avevo visto prima Molto simpatico Poi Notizie di oggi Ho visto ancora proteste notav Ma io non lo so Ma sto notav Praticamente è una cosa importante O sono solo loro che non vogliono sta notav Perché non vogliono il treno che ci passi sotto casa Perché a me gli sembra che solo questi qua della Val Susa Rompono le scale Poi A cosa gliene frega uno che sta a Napoli della Val Susa Io non lo so Ci avranno altri problemi Secondo me Vabbè dicono che c'è l'amianto Le cose Però intanto ci fanno spendere 90.000 euro al giorno Cioè fanno ritardare i lavori Secondo me alla fine Ormai è deciso La notav si fa Cioè non è che adesso C'è ancora un po' da discutere No Si fa Problema è che con questi notav Ci metteranno 20 volte il tempo E 20 volte il costo Allora io alla fine non lo so Se questo è Quello che stanno facendo Giusto o no E giù commenti Poi Sì abbiamo già trattato Su Facebook ampiamente Non ha commentato nessuno Perché si sentono Si sentono la colpa dentro Praticamente è uscito In Giappone Il primo Water Controllato via Bluetooth Con un Android Ma io mi sono subito Pensato Una domanda Ma se uno Che sta lì Successo A controllare Il water Da Youtube E lo scarico Dell'acqua Tramite il Samsung E se sbaglia Si pulisce Con un Samsung E questo è il primo pensiero Che mi è venuto in mente Poi E magari Sto gabinetto Avrà anche Delle app Potrei installare Le app Potrei installare L'app di Twitter Perché mi hanno messaggio Tutti i miei amici Ho appena fatto la cacca Ovviamente Hashtag Hashtag Cacca Water La marca Si chiama Lixil Lixil Una specie Che mi ricorda Anche la parola Sativa Marca perfetta Per un water Perfetto Oggi ho visto La pubblicità Che ha fatto La Fiat Per il mercato americano Per la Fiat 500 Abbastanza divertente Paralelmente C'è Due americani Che vanno in un concessionario E Ordinano Una Fiat L Che è una 500 Più grande Larga E dopo Quello gli dice Ah Con Ogni Fiat L Viene una famiglia italiana In omaggio dietro In sedili dietro E allora Questi due americani Iniziano a guidare Ci sono questi Che parlano dietro In italiano Sono sottotitolati In inglese Con accento Un po' Napoletano Non lo so Del sud Non capiscono niente Poi alla fine Alla fine Anche gli americani Iniziano un po' L'italiano E vissero felici E contenti Abbastanza divertente Ovviamente Ovviamente Quando Arriva una Con dei cafferoni Americani Di Starbucks Ah no no Noi non beviamo Quella roba Eh roba Che bello 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 Guardatelo tutto Ovviamente La Fiat Non so chi ha fatto Sta campagna Ha dovuto Dosare bene Perché altrimenti Dopo Si offende Gli italiani Sai quelli lì Quei Con i baffi neri Vestiti di nero Che quando bussano Alla porta Con il ruenzio Dicono Che bussano E poi dice Eh razzista Catalogati male Ma loro non hanno messo Classica donnina Con il cotuto nero Il vestito A pallini Bianchi Quelli belli Tipo Soralello Sono stati Un po' generici Molto bello Poi Altre notizze del giorno Ieri sera Ho visto Sto programma Abbastanza interessante Su Story Channel Praticamente Fanno vedere Quanto Il cervello umano A volte È stupido Proprio Perché Ci sono miliardi Di particolari Che ogni giorno Saltano agli occhi Però noi Non ce li ricordiamo Ma Allora Ci sono tutti Giochi di magia O giochi Insomma Di illusioni Così strane Che Te pensi una cosa In realtà Era tutt'altro Si chiama I How I Bleep Your brain Come ti ho Bleep Sarebbe quando C'è una parolaccia E metto un Bip Il tuo cervello Ah come ti ho Blippato il tuo cervello Che flippato Molto bello Molto bello Tipo Che so Classico Esempio Facevano Vedere una monetina A uno Una monetina americana Che hanno visto Miliardi di morte E dire Dimmi cosa c'è Sopra Che nessuno Si ricordava Sono piccoli dettagli Che Ci perdiamo Ogni giorno Poi l'altra cosa Abbastanza bella Perché è successo Anche a me A volte E questo Vi racconterò Anche un aneddoto Molto divertente A volte Sappiamo Delle cose Memorizzate Come una password Cioè La sappiamo Lo sappiamo La sappiamo Poi un bel giorno Non ti viene Come mai Perché un bel cervello La messa Nel tipo E' una cosa Che faccio tutti i giorni Quindi Alla fine Non se la ricorda Neanche Adesso Non mi è venuto Da spiegarlo Però E' una cosa Che Non ci presti Più attenzione Quindi Il cervello La fanno Più in automatico Che andarsela A ricordare Veramente Allora L'aneddoto Era molto divertente Praticamente In Lynchburg Tennessee C'era Un uomino Barbuto Di nome Jack Daniels Che inventò Il whisky Lui teneva Una cassaforte Nel suo ufficio E conosceva Solo lui La combinazione Allora Ogni giorno Andava ad aprire La cassaforte Vedere quanti soldi C'era Mette soldi Togli soldi Un bel giorno Ma anche altre volte Che gli era già capitato Non si ricordava La combinazione Ma Se l'aprivi tutti i giorni Come fai Non ricordarti La combinazione Allora Questo Per il motivo Che ho spiegato Prima Allora Lui da un calcio Forte Alla cassaforte Che gli si Spacca il dito Del piede E dopo Se anni Muore Per quello Quindi Scrivetevi La password Del banco Sul banco Così non ve la dimenticate Eh sì È consiglione E questo è quanto Poi vabbè C'erano altri esempi C'era uno Che faceva Il trucco di magia No? Però in realtà Te stavi attento Alle carte E poi alla fine Ti chiedeva Di che colori Avevi i capelli Non lo so Ah no C'era C'era un trucco di magia Io ovviamente Attento alle carte Cercare di capire Il trucco No? In realtà Si Praticamente La donna Che faceva Il trucco di magia Si scioglie i capelli Quello che faceva Il trucco di magia Il passante Diciamo Si scambia Quindi ne viene un altro Assolutamente Non mi ricordo niente Alla fine Fa vedere Allora Avevano scambiato Il Il bamboccio Aveva Quella lì I capelli Messi di destra Si aveva cambiato Maglietta Si aveva cambiato Le mutande Tutto E io ero lì Che Ah Il trucco di magia Eh Molto bello Guardatelo tutti Ciuschi Eh ma anche Ciuschi C'è proprio una memoria Proprio Fotografica Eh Ieri è venuto uno Che ci raccontava Della sua memoria Fotografica Non so È entrato nel discorso Della memoria fotografica E poi ha tirato fuori Una parola Che sfido Chiunque Qualsiasi americano A scriverla giusta Si chiama Eideic Eideic Perché Si pronuncia come Identical No più o meno Identic Ma si scrive Tutto diverso Si scrive con la Eideic Eideic Una roba così Mai sentita Tra l'altro Neanche in italiano Anche in italiano Non c'è la traduzione Si scrive proprio così Sarà Non lo so Ci guarderò Vuol dire tipo Memoria fotografica E questo è quanto Altre notizie del giorno Ah sì Ehm Manning Coso Quello Quel militare americano Che aveva Ehm Trafugato Dati segreti E dati a Wikileaks E' stato condannato A 90 anni di prigione Eh Senso proprio Ma secondo me Perché lui era Giovane E lui pensavo Ma che è Niente di che Osti dati Cicicilido Non ha pensato Assolutamente Che gli americani Serebbero Leggermente alterati Eh 90 non sono pochi Eh Ma adesso arriva La Cassazione Però la Cassazione Americana Te ne danno di più No La Cassazione Manco c'è C'è la Corte Suprema Al massimo Proprio Un caso Un caso Deve essere Un caso Molto Non so bene Come funziona Però Non lo so Ci guarderò E ha fatto Lo suo Quello lì Poi Allora Questo è quanto Allora Appena Quello lì Chegno